Grazie Presidente, signor Commissario. Un ricercatore indipendente, Gabriele Del Grande, da anni aggiorna in rete la contabilità delle morti di chi tenta con i barconi gestiti dal crimine organizzato di attraversare il Mediterraneo. La sua minuziosa contabilità è arrivata a 4.200 vittime, 18 delle quali lo scorso marzo, una vera ecatombe. A Lampedusa, l'anziano custode del cimitero, da anni si occupa volontariamente di dare una degna sepoltura con una croce e un fiore per ogni corpo tra i pochi che sono recuperati. Questi due cittadini europei agiscono anche in nome nostro, agiscono anche per supplire al nostro fallimento politico. Il loro impegno spontaneo scandisce l'urgenza di una nuova architettura e sostanza politica diversa dai rimpatri forzati in mare adottati dal Governo italiano in spregio al diritto internazionale che solo aggiungono disperazione. L'Unione per il Mediterraneo sia dunque una nuova umanità, tenendo conto che il tempo è poco. Oggi, più della metà della popolazione, dal Marocco alla Turchia, a meno di 18 anni, il Mediterraneo è quindi destinato a cambiare in fretta. Grazie.